Io faccio la differenza perché ho una volontà di ferro, tante volte getto il cuore oltre all'ostacolo proprio per la mia volontà, sono uno che non molla mai, lo ero quando giocavo, lo sono diventato nella vita, nei momenti difficili e quindi volontà di ferro e grinta sempre. Ho scelto Make the Difference perché parla ai giovani, parla alle nuove generazioni, io lo faccio già attraverso la mia musica ma credo che potervi dire queste cose mi fa sentire un po' il vostro fratello maggiore o un professor rock come scherzosamente mi chiamano i miei alunni in cattolica e questo mi piace molto perché non c'è il distacco tra di noi come tra allievo e insegnante o tra fan e cantante. A me piace avere un rapporto umano perché credo che l'umanità sia, questa sconosciuta oggi, sia un'arma importantissima per il vostro futuro, ecco non dimentichiamocelo mai e quindi con Make the Difference sono vicino alle nuove generazioni, a voi e quindi tenetemi un posticino nel vostro cuore.